35 anni di albero di Natale più grande del mondo sono tanti ma il gruppo di volontari che porta avanti questo gioiello continua a crescere ed arricchirsi di forze fresche e per il messaggio di pace, dialogo e incontro tra culture, religioni e razze che l'albero di Gubbio vuole rappresentare, il testimonial di quest'anno sarà dunque Medici Senza Frontiere, organizzazione umanitaria rappresentata in piazza 40 Martini da Miguel Lupiz che ne è membro del consiglio direttivo. Lupiz era appena rientrato in Italia dell'ospedale a Kunduzzi in Afghanistan dove lavorava come infermiere quando la struttura sanitaria è stata bombardata nell'ottobre scorso provocando almeno 30 morti tra cui 14 operatori dell'organizzazione. L'albero vogliamo che non sia soltanto un simbolo estetico bellissimo, emozionante ma che riesca a trasmettere anche dei valori, quello della solidarietà, della condivisione del lavoro spesso per gli altri, della propria vita spessa per gli altri. Dopo Papa Francesco non era molto semplice trovare un testimonial che comunque fosse all'altezza di chi l'aveva preceduto. Medici Senza Frontiere noi pensiamo che siano i testimoniali ideali per trasmettere questo messaggio. Loro lavorano in tutto il mondo senza protagonismi, senza personalismi, si spendono per gli altri, sacrificano la loro vita per gli altri. Il nostro è un piccolo contributo che vogliamo dare a loro rendendo omaggio a loro proprio facendo accendere l'albero di Natale più grande del mondo. A Lupiz e a Medici Senza Frontiere sarà consegnato come consuetudine un prodotto del miglior artigianato artistico gubino. Quest'anno si tratta di una ceramica realizzata da Luci Angeloni e illustrata da Maurizio Tittarelli Ruboli a rappresentare il lavoro delle tante persone che danno forma all'albero. È stato spiegato. Gratitudine e apprezzamento per il lavoro dei volontari del comitato nell'intervento del sindaco Stirati che ha sottolineato il significato etico e spirituale dell'albero, momento clu di un mese ricco di eventi. Prestigiosa anche la scelta dei testimonial, ha detto il primo cittadino. L'appuntamento come sempre per le 18 in piazza 40 Martire, in diretta sulla nostra emittente, presenti figuranti del corteo storico della città e gli sbandieratori di gubio, oltre alle rappresentanze istituzionali e novità di quest'anno di Babbo Natale che raccoglierà le cartoline distribuite tra gli alunni di asilo e prima elementare. Attesa come sempre tanta gente, forte il riscontro che sta avendo l'evento, soprattutto nei social media, si calcola che almeno 500.000 persone abbiano visualizzato la pagina dell'evento. Grande successo, ha avuto anche l'iniziativa Adotta una luce attraverso il rinnovato sito internet dell'albero di Natale.